Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video molto estemporaneo perché ho un annuncio da farvi Sono effettivamente diventato da una settimana a questa parte e molti di voi se ne sono accorti perché hanno visto sulla pagina apposita un coach su Docety effettivamente ho contattato su richiesta insistente di molti di voi e soprattutto della mia ragazza Valentina che ci teneva tanto i ragazzi in cui io su server, i loro collaboratori per entrare a far parte del nuovo dei coach non con qualche dubbio anzi e per fortuna il loro risconto è stato molto positivo e mi hanno concesso di diventare uno dei loro coach quindi io penso che ormai avrò già stabilito da un paio di giorni da quando vedete questo video la prima conferenza la prima conferenza arriverà sabato 27 ottobre se non mi ricordo male il giorno dalle 18 alle 20 e sarà una retrospettiva sulla guerra di Troia per raccontarvi tutti quegli eventi che non sono inclusi all'interno dell'Iriade perché se non lo sapete l'Iriade include solo pochissimi giorni nella guerra di Troia ed esclude tutti i restanti 9 anni e 355 giorni quindi io vi invito se siete interessati a visitare la piattaforma se non la conoscete vi linko il video di Reddits Synergo, quello sul server, in descrizione e nelle schede per informarvi io vi posso dire da parte mia che il progetto, specie per il campo educational, potrebbe essere molto molto interessante ve lo dico già da adesso, è ovviamente a pagamento la partecipazione a queste conferenze ma quello che vi viene dato in queste conferenze è ovviamente un bonus e un approfondimento rispetto a quello che vi si potrebbe dare ovviamente gratis e con le pubblicità in mezzo su YouTube lì non ci saranno interruzioni pubblicitarie, pagate l'ingresso con i crediti perché Doce ti funziona sui crediti, quindi dovete comprare un pacchetto di crediti apposito per partecipare poi a tutte le conferenze che volete e quindi partecipare alla mia sessione, alla mia conferenza ma ci sono tante altre conferenze e tanti altri coach interessanti per dirvela una c'è anche Willy di Zospacco, che io saluto, mi ha fatto anche i complimenti per essere entrato tra i coach di Doce, quindi seguite anche la sua che si promette essere molto interessante mi raccomando, e si tiene venerdì 26 e io non gli ho voluto togliere particolari spettatori perché volevo farla anche io di venerdì poi mi sono accorto che c'era la sua, quindi la faccio di sabato così sinergizziamo, facciamo un venerdì sabato education rompendo le palle a quelli che il venerdì vogliono andare a fare bisboccia dalle sei del pomeriggio che non penso proprio ma vabbè, tante tra l'altro spendendo un pacchetto di crediti per partecipare a una conferenza non solo potreste vedere la conferenza e qualcuno che vi parla dall'altra parte dello schermo ma come viene specificato anche nel video di Sinergo e Redez potete interagire, potete fare delle domande come se fossi in una vera aula di una qualche classe di scuola media superiore, anche di università alzare letteralmente la vostra mano virtuale e intervenire direttamente nella conferenza per chiedere ulteriori approfondimenti davvero è un'esperienza che probabilmente è abbastanza inedita su internet e promette davvero bene quindi mi raccomando fate un salto e io vi ripeto certi soldi sono ben spesi delle volte cioè per certi generi di conoscenze date da persone che magari sono professionisti davvero titolati nella loro professione non le trovate gratis su internet e quello che vi viene proposto come costo su Docet è un costo davvero irrisorio tra l'altro con le solite politiche di YouTube quindi non è che ci si guadagna chissà quali soldoni non sbanchiamo il lunario né noi coach né gli organizzatori di questa piattaforma ma ve lo posso assicurare dopo aver parlato per due ore con loro ve lo posso assicurare quindi avete un'opportunità più unica che rara di interagire con tante persone diverse quindi noi ci vediamo sabato 27 con questa bella retrospettiva per il resto alla prossima Bye! 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 Bye!